Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere un esercizio nel quale abbiamo tutti i valori delle resistenze e il valore del corrente che eroga il generatore di tensione, quindi l'Aitot. Vogliamo andare a ricavare il valore di tensione del generatore e stabilire il verso, quindi dove si trova il suo positivo e dove si trova il suo negativo. Bene, lo vediamo insieme tra un attimo. Bene, ovviamente per stabilire dove si trova il positivo del generatore abbiamo bisogno di conoscere il verso della corrente, quindi qua ovviamente ho aggiunto la frezza per capire ovviamente se non... diciamo che ci viene il valore ma ovviamente non possiamo stabilire dove il positivo e il negativo. Tuttora che la corrente totale sappiamo che a questo verso sappiamo anche attribuire il più al generatore qua e il meno di qua e quindi questo è a posto, quindi qua possiamo avere la nostra massa. A questo punto ragioniamo sul fatto che quando è che troviamo il valore del generatore. Troviamo il valore del generatore quando dobbiamo fare e ricavare la corrente totale facendo il valore del generatore fratto la resistenza equivalente. Quindi in questo caso abbiamo che il valore del generatore sarà pari alla resistenza equivalente per la corrente che eroga il generatore. Questo valore lo abbiamo già, dobbiamo andare quindi semplicemente a ricavare la r equivalente. Allora r equivalente vediamo sempre la parte più lontana del generatore, quindi andiamo in questo caso ovviamente la parte più lontana in cui si trova qualcosa di in serie parallelo. Facciamo sempre un calcolo veloce, quindi senza fare i vari passaggi, senza fare i vari disegni, quindi andiamo a trovare R5 e 6 che sono in parallelo e hanno entrambi valore 8, quindi abbiamo R5 e 6, R5 parallelo R6 e quindi il parallelo è la metà, 4k. Poi da qua abbiamo la serie con R4, quindi abbiamo R4, 5 e 6, R4 più R5, 6 e quindi abbiamo 6 e 4, 10k. Dopodiché abbiamo 10k tutto questo blocco in parallelo con 10k, quindi R3, 4, 5, 6, quindi 10k parallelo 10k, sempre la metà, quindi 5k. Poi abbiamo tutto questo blocco in serie R2, quindi R2, quindi R2 a 6, avremo R2 più R3, 4, 5, 6 e quindi abbiamo 6k. Una volta che abbiamo tutto questo blocco sarà in parallelo con R1, quindi R equivalente sarà R1 parallelo con R2 a 6, quindi avremo 3k parallelo 6k, 6 per 3 è 18, diviso 9, 2 kOhm. A questo punto da questo valore è semplicemente avrò che è semplicemente avrò che è uguale a 2k per 20 milli, quindi k e milli se ne vanno, 2 per 2 è 4, 40 volt. Quindi semplicemente e velocemente riusciamo ad andare a calcolare il valore di tensione del generatore che alimenta questo circuito. Bene, questa è comunque un'altra idea di qualche altro esercizio per avere dimestichezza, spero vi possa essere ad aiuto, fatemelo sapere nei commenti, ci vediamo al prossimo video!